Luca Garibbo, centrocampista della Dianese, 0-0 oggi con la Praese, come è andata la partita? Siamo un po' rammaricati per lo 0-0 perché comunque abbiamo giocato il nostro calcio, soprattutto nel secondo tempo, anche se loro sono pariti molto forti nel primo tempo, pressandoci molto alti e abbiamo fatto fatica a uscire a parar piede, però secondo te siamo andati col piglio giusto e come ho già detto prima, siamo riusciti a giocare il nostro calcio, purtroppo non siamo riusciti a trovare la via del gol, però siamo fiduciosi. Per domenica prossima trasferta a Bragno, come preparerete la settimana? La prepareremo come al nostro solito, ovvero andando molto forte in allenamento e poi si spera di riuscire a trovare la vittoria. Grazie